Abbiamo questi due problemi dei trasporti marittimi e terrestri su gomma che richiederebbero un dispendio di energie straordinarie da parte di tutti i consiglieri comunali, da parte della Giunta, da parte del Sindaco. Invece io non registro alcuna iniziativa. È vero che sulla problematica del trasporto marittimo la competenza è troppo fortemente specifica della Regione e dove anche i margini di azione da parte degli amministratori locali sono ridottissimi ma si potrebbe studiare qualche forma di protesta eclatante atteso che le forme di protesta eclatanti sono le uniche che a volte danno soddisfazione.